Indice dei contenuti lingotti d'oro. Caratteristiche e quanto costa un lingotto d'oro? Lingotti d'oro. Quotazione attuale dove comprare lingotti d'oro? Investire in lingotti d'oro. Cosa bisogna considerare? Conviene nel 2023? Come risparmiare e investire per poterselo permettere? Conclusioni domande frequenti investire in oro resta fra le scelte più gettonate per chi vuole mettere al sicuro il portafoglio, nelle fasi di incertezza economica e non solo. Comprare oro fisico significa investire nel bene rifugio per eccellenza, una scelta popolare anche per cercare di proteggersi dal inflazione e per contrastare gli alti e bassi del mercato azionario. Quanto costa un lingotto d'oro e su quali formati conviene puntare? Quanto costa un lingotto d'oro? Tabella iniziale da cosa dipende il costo di un lingotto d'oro? Purezza, quotazione dell'oro, pezzatura quali sono i formati ufficiali dei lingotti d'oro? Da un grammo a 12,5 kg l'investimento in oro fisico conviene? Sì nel lungo periodo qual è la migliore alternativa? ETF in oro lingotti d'oro Caratteristiche Dimensioni La pezzatura varia dai lingotti di piccole dimensioni, con peso compreso fra 1 e 1000 grammi, fino ai lingotti d'oro di grandi dimensioni. Fra questi rientrano anche il London Good Delivery, il classico lingotto da 12,5 kg, e lo Shanghai Gold Exchange Good Delivery da 3 kg. Oltre ai formati standard vengono prodotti anche lingotti con misure diverse per venire incontro a richieste specifiche. Il record spetta al lingotto creato nel 2005 dalla Mitsubishi Material Corporation, del peso di 250 kg, è il più grande al mondo e misura 45,5 x 22,5 x 17 cm. Una particolarità dei lingotti più piccoli, fino ai 20 grammi, è che generalmente sono confezionati in custodia e blister. Peso il peso di un lingotto può essere espresso in grammi o in once troi. Nel caso del già citato London Good Delivery, il taglio tipico delle riserve auree nazionali 12,5 kg corrispondono a 400 oz. Più in generale, un oncia troi, o oz, equivale a 31,1 grammi circa. Il lingotto Comex Good Delivery, da 100 oz, ha un peso di 3,125 kg. Purezza per capire quanto costa un lingotto d'oro da 100 grammi o altra pezzatura si considera un altro parametro fondamentale, la purezza. Questo valore, riportato sulla superficie del lingotto, indica la quantità di oro contenuta ed è espresso in millesimi o in percentuale. Generalmente la caratura è del 99,99% o 999,9024 carati. Nel caso dell'oro da investimento il valore minimo corrisponde a 99,95%. Quanto costa un lingotto d'oro Per calcolare quanto costa un lingotto d'oro da 10 grammi o un altro formato si considera il valore di mercato dell'oro. Per ottenere il prezzo del lingotto, tuttavia, non basta moltiplicare il prezzo dell'oro, prezzo a pronti, per il numero di grammi. Tra i fattori da tenere in considerazione, infatti, c'è il costo di raffinazione e di lavorazione che aumenta per i lingotti di piccole dimensioni. In altre parole, un lingotto d'oro da 1 kg costa meno rispetto a 1000 lingotti da 1 grammo. I rivenditori, inoltre, possono applicare un margine operativo diverso. Generalmente, la forbice tra prezzo del lingotto e quotazione. Dell'oro scende all'aumentare del peso. Per stabilire quanto costa un lingotto d'oro, inoltre, si considerano la purezza e le altre caratteristiche. Queste ultime possono essere oggetto di una valutazione specifica di tassaggiatura. La caratura è riportata nel certificato del lingotto, completo di numero di serie. Oltre a considerare il rapporto tra prezzo di vendita e quotazione a giornata dell'oro, è consigliabile verificare sempre lo scostamento. Tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dei lingotti nelle diverse pezzature. Lingotti d'oro, quotazione attuale. Quanto costa un lingotto d'oro da 1 kg? Per rispondere a questa domanda si fa riferimento al valore aggiornato della quotazione dell'oro, il fixing LBM a quotazione giornaliera, o lo spot price aggiornato in tempo reale. Per avere un'idea dei prezzi ufficiali dei lingotti è possibile consultare le tabelle pubblicate dai rivenditori, tenendo presente che il costo di un lingotto d'oro non cresce su base proporzionale all'aumentare del peso. Dove comprare lingotti d'oro? Come abbiamo visto il costo di un lingotto d'oro dipende anche dal margine applicato dal rivenditore. A seconda dei casi, può trattarsi di un operatore professionale in oro, gioielleria, banco metalli, negozio online, un dealer o un intermediario. I lingotti d'oro piccoli possono essere acquistati anche sui siti di aste online, considerando il prezzo della spedizione e i costi d'asta. Puoi comprare i lingotti anche tramite la banca e operatori specializzati che offrono il servizio di custodia in cassetta di sicurezza. Investire in lingotti d'oro Cosa bisogna considerare? Fiscalità dal punto di vista fiscale, i residenti in Unione Europea che acquistano o vendono lingotti d'oro, e, in generale, oro. Da investimento, hanno il vantaggio di non pagare l'IVA. Redditività sotto il profilo della redditività Acquistare un lingotto d'oro di piccole dimensioni, 1, 5, 10 grammi, non è una scelta conveniente. In genere lo scostamento tra quotazione spot dell'oro e prezzo di vendita dei lingotti è più evidente nel caso dei lingotti piccoli. È consigliabile quindi puntare sui lingotti di peso non inferiore ai 100 grammi, tenendo in considerazione anche quali sono i formati di lingotto più richiesti. Non frazionabilità Per valutare la bontà di un investimento conviene considerare anche la frazionabilità. Nel caso dell'oro fisico e, nello specifico, dei lingotti, l'investimento non è frazionabile, un fattore da tenere in considerazione. Soprattutto per quanto riguarda i lingotti di grandi dimensioni Conviene nel 2023? L'acquisto di lingotti d'oro può avere diverse finalità. Nel caso dei tagli più piccoli, può essere un'idea per fare un regalo di compleanno o per un'altra occasione speciale. Chi intende acquistare oro da investimento deve fare una valutazione più accurata che abbraccia la volatilità, la liquidità e la redditività dell'investimento. In sintesi, investire in oro conviene e come fare? Come abbiamo visto, la quotazione dell'oro è soggetta a continue fluttuazioni e a una volatilità elevata. Se questo è vero anche per altre tipologie di metalli e materie prime, è indubbio che l'oro sia fra le scelte privilegiate per contrastare l'inflazione e le incertezze legate al mercato azionario. A renderlo appetibile, oltre al suo valore intrinseco, è la correlazione inversa rispetto ai prezzi dell'azionario, elemento che Rende l'oro fisico un utile strumento di diversificazione. Come risparmiare e investire per poterselo permettere? L'acquisto di oro fisico è una scelta popolare soprattutto nelle fasi di compressione dei mercati. Se consideriamo il prezzo dei lingotti di grandi dimensioni e la necessità di custodirli in cassette blindate, tuttavia, può non essere una scelta alla portata di tutti. Una valida alternativa sono i portafogli di investimento che comprendono una quota di ETF sull'oro, strumento che consente di massimizzare il rendimento e ridurre i rischi legati all'acquisto di oro finanziario. Leggi il nostro approfondimento per sapere cosa sono gli ETF sull'oro e i fattori da considerare per costruire la migliore strategia di investimento. Conclusioni L'acquisto di lingotti d'oro è fra le modalità più semplici per investire in oro, specie se confrontato con attività complesse come Il trading in oro e strumenti alleva quali futures e opzioni. Per semplificare la gestione del rischio, come abbiamo visto, è possibile affidarsi agli ETF quotati in oro, facili da scambiare. Ancora più saggio è puntare su una strategia che comprenda una quota di oro fisico accanto agli ETF a replica sintetica. In Monifarm siamo specializzati nella composizione di portafogli diversificati, caratterizzati da varie tipologie di ETF per andare incontro a ogni esigenza di investimento. Domande frequenti Lingotti d'oro Quali sono i formati ufficiali? La pezzatura dei lingotti d'oro può spaziare dalle placchette da un grammo fino ai lingotti da 12,5 kg London Good Delivery. Da costo dipende il costo di un lingotto d'oro? La quotazione giornaliera dell'oro non è l'unico fattore che incide sul prezzo dei lingotti d'oro. Il costo varia anche in base al prezzo operativo applicano dai rivenditori, dalla qualità, purezza o caratura, e dal formato, lingotti. Più piccoli sono caratterizzati da costi di lavorazione più elevati e da uno scostamento più evidente tra prezzo pronti e prezzo di vendita. Conviene investire in lingotti d'oro o in oro finanziario? L'acquisto di oro fisico è un investimento difensivo che può aiutare a contrastare l'inflazione e a proteggere il capitale nel lungo periodo. Uno dei motivi per cui si ricorre all'oro nelle fasi di instabilità dei mercati finanziari è la bassa correlazione rispetto ad azioni, obbligazioni e asset analoghi. Come sempre la miglior scelta è la diversificazione, anche puntando su portafogli di investimento focalizzati sugli ETF oro a replica fisica o sintetica.